E' la 12, però c'è stato un cambio di programma, proprio perché mancavano gesti presti, giusto? Abbiamo cambiato il gusto, hanno inventato, cosa? Una macedonia di frutta, fresca di stagione, con una fruttura di cioccolato, un'articolata. E' una cosa delicata, la tuta è fresca, infatti. Mi vengono di stare seduti, per favore. E ragazzi, portate le granite anche dall'altro lato. Ma il cambiamento di programma, quanto lo faccio stamattina? Perché non l'avevo, non l'ho potuto trovare. E allora, che se ne, mannaggia, adesso che faccio? E' venuto fuori questo camolavoro qua. E anche queste sono frutte di stagione, tutte insieme. Frutta, cerecce, pesca, francole, ananasse, mire, tutto. Arancia, limone, tutto. Di solito le improvvisate sono quelle che riesco. E' l'ultimo minuto. E' oltre ogni macedonia mai inventata questa cosa, che è meravigliosa. Questa è macedonia. Forse perché non avete trovato i gelsi pressi, no? Il discorso che abbiamo fatto prima con il signore. In questo momento purtroppo c'è una quantità di gelsi che si dà per supportare la quantità. Apprezziamo la magia tonia perché magari è nuova rispetto a te dieci. Grazie a te, credo. Grazie a te, credo. Grazie a te, credo. Grazie a te. Allora, ringraziamo Zetanina e a te. Grazie a te, grazie. Grazie, un applauso. Grazie.